E' una partita che avevamo in pugno fin dal primo tempo, siamo riusciti ad andare sul 2-0, una disattenzione del capitano invece di buttare via la palla, l'ha data a loro e è venuto il 2-1. Siamo finiti il primo tempo sul 2-1, li è entrati in campo, non so che è capitata la squadra, ha incominciato un po' il nervosismo, il vice mister si è sentito male, abbiamo dovuto portare all'ospedale e da lì la squadra è crollata. Abbiamo retto bene nella fase centrale, poi dopo siamo calati, ci hanno fatto il 2-2 e niente, la partita è andata come è andata, col morale in terra dei ragazzi, il morale mio è uguale per via del... Per quando succedono queste cose, insomma, disturba, anche se in precedenza la squadra in contropiede cercava di più della partita. Sì, sì, esatto, è vero, anche in contropiede cercava di più della partita ma non ce la facevamo, proprio non c'eravamo più con la testa, dopo quello che è successo al vice mister non c'eravamo più con la testa. Dopo praticamente era finita la partita, poi sono ragazzi insomma che hanno l'abitudine... Esatto, poi molto attaccati anche al vice mister, sono molto attaccati, Paolo Tudisca. Paolo Tudisca, insomma gli facciamo gli auguri per rivederlo presto in campo. Certo, facciamo gli auguri, grande Paolo, speriamo di rivederti presto con noi. Adesso però bisogna, come deve andare avanti, da martedì si riprende... Da martedì si riprende gli allenamenti, bisogna lavorare un po' più anche sul fiato perché vedo che calano un po' troppo. A parte quello che è successo però si cala di fiato e bisogna lavorare sul fiato. Infatti ora preparando il mio preparatore atletico, guardiamo di lavorare un attimino un po' per reggere queste partite 90 minuti, no 80 o no 60 minuti. Anche perché per i ragazzi questa intanto è una bella vetrina ma poi proprio ha la posizione di Levene, con vicino società come San Giovanni e Montevarchi. Esatto, come San Giovanni e Montevarchi, abbiamo due davanti con Giuse ed è Cerrato. Cerrato non sta bene, Cerrato ha i 10, ha male alla schiena, prende delle pillole apposta, ha un flessore che gli faceva male. Sono tutti ingedenti perché davanti non ci abbiamo più nessuno, due si sono fortunati e anche lui è mezzo infortunato. Jusse invece Jussef è un ragazzo lotto praticamente, lui è con i due davanti e potrebbero fare altre categorie. Il problema è che ancora manca un po' di testa. Ci sarà il mister con l'esperienza del mister. Ci provo, ci provo, anche ora per esempio è stata una brutta scena, diciamolo, perché è la verità. Perché lui risponderà e il pubblico non va bene. Infatti quando entrerò dentro gli spogliatori gli farò capire un attimino com'è la situazione. Come funziona. Come funziona, perché rischiare una squalifica perché risponde il pubblico non va bene. Oltretutto che sai che è una pedina importante di questa squadra. Grazie mister, buon lavoro. Niente, non c'è di che, grazie a voi. E a presto. E a Sport e chilometri zero. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.